Il clima adesso non lo so, il momento in cui c'ero io è veramente terribile perché noi ci siamo nascosti sotto le scrivanie in quanto il mio ufficio comprende delle vetrate e conseguenzialmente eravamo alla merce di questo tizio qualora fosse lì, perché non so neanche se i vetri fossero antiproiettili o meno. Io ero al quinto piano, ho sentito gli spari, poi mi sono nascosto al settimo piano, però ancora al settimo piano nessuno sapeva, dopo anche 20 minuti nessuno sapeva nulla, sono rimasti chiusi fino adesso che ci aveva poi comunicato uno della Digos che l'avevano arrestato. Scusate, dobbiamo lasciare.